Salve a tutti! Prima di iniziare il video vorrei invitarvi a lasciare un like, iscrivervi e a guardare gli altri video, potrebbe esserci del materiale che potrebbe interessarvi. Quando si parla di Bibbia si entra necessariamente in conflitto. Tutti dicono di avere ragione, tutti hanno i loro passi preferiti che sembrerebbero confermare le proprie teorie. E se si propone un passo della Bibbia che sembra contraddire quelle idee allora si dice sempre che quei passi vanno visti nel contesto. Il contesto non è un pretesto, lo diceva il logico-matematico frege che il senso di qualunque cosa dipende dal contesto. È una regola logico-linguistica che vale per tutto il linguaggio, sia scritto, sia parlato, sia verbale che non verbale, vale anche per i simboli. Volete un esempio di senso e contesto? Ricordate quella vecchia foto di Papa Benedetto da giovane che faceva il saluto nazista? Bene, quella foto è stata tagliata, perché nella sua interezza lui aveva entrambe le braccia alzate e tese, durante la messa. Vi metto il link in descrizione. Quando l'ho vista la prima volta ci avevo creduto anche io. Il contesto è essenziale per comprendere qualunque testo, compresa la Bibbia. Inoltre il contesto è cruciale per capire se e quando un passo biblico va preso alla lettera o no, ma non è del metodo esegetico che vorrei parlarvi, ma del fatto che i testimoni di Geova fanno due pesi e due misure riguardo alla questione del contesto. Lo stesso discorso va fatto con tutte le altre religioni, ma i testimoni di Geova li conosco un pochino meglio per sapere di cosa diamine parlo. Infatti vi invito anche a guardare i video precedenti sui testimoni di Geova, e poi i cattolici usano poco la Bibbia per legittimare le loro dottrine, e i protestanti sono molto divisi, quindi dovrei fare un discorso a parte per ogni corrente. I testimoni di Geova dicono di seguire tutta la Bibbia alla lettera nel suo autentico significato. In teoria dicono di leggere la Bibbia nel suo contesto per comprendere il significato, ma non è sempre vero. Per certi passi della Bibbia bisogna vedere il contesto e per altri invece si rifiutano categoricamente. Quindi ci sono versetti che per loro vanno intesi così come sono scritti, altri vanno messi nel contesto, altri sono delle metafore e vanno interpretati, ma guai a dire che loro interpretano la Bibbia, il loro è intendimento, anche se il corpo direttivo lo cambia come vuole. Matteo 24, 45 viene usato per giustificare l'autorità indiscutibile del corpo direttivo, si parla di uno schiavo fedele che dà il cibo ai domestici. Secondo loro è cibo spirituale. E guai a dire che questo schiavo potrebbe essere un'altra religione. Leggendo almeno i versetti successivi si capisce che è una parabola. Dove Gesù contrappone un servo fedele che si occupa di gestire gli altri al servizio del padrone, a un servo che invece li maltratta. Il padrone sarebbe tornato all'improvviso e avrebbe visto se il servo faceva bene il suo lavoro oppure no. Ma il contesto della parabola si capisce meglio se si legge almeno tutto il capitolo 24, in cui Gesù parla della fine dei tempi, che verranno quando nessuno se lo aspetta. Verrà come un ladro, non si può sapere in anticipo quando accadrà, infatti il corpo direttivo sbaglia tutte le predizioni. Se io a un tdg proponessi il famoso passo di Matteo 16 e 18, quello preferito dai cattolici, decontestualizzato, preso alla lettera, sembrerebbe dire che è Pietro il portavoce di Dio in terra, non il loro corpo direttivo, perché allora il passo sulla schiavo fedele andrebbe preso alla lettera decontestualizzato mentre quello su Pietro invece sì. Riguarda la questione della vita dopo la morte ad esempio. Loro prendono Ecclesiaste 9, 5. I morti non sono consci di nulla. Le altre traduzioni dicono che i morti non sanno nulla, il che è diverso. Leggendo tutto il passo però c'è scritto che morendo si va nello Sheol, in greco Ades, cioè l'al di là. Su che criteri questo Sheol sarebbe un luogo figurato? In 1 Corinthians 12, 2, 4, Paolo dice di essere stato nel terzo cielo e di avere visto il paradiso. E di non sapere se c'era stato con il corpo o solo in spirito. Con che criterio anche questo passo non andrebbe preso alla lettera, quando dicono che i morti non sanno nulla non c'è alcuna interpretazione, quando Paolo parla del paradiso in cielo invece bisogna invece intendere diversamente. Lo stesso discorso vale per la parabola in Luca 16 e 19, 31, quella del ricco e Lazzaro. Dove si parla di luogo per i beati e luogo per i dannati, e non dopo la resurrezione, ma adesso. Perché la parabola dello schiavo va presa alla lettera e forzata come vogliono loro e invece quella di Lazzaro sarebbe solo una parabola? Altri esempi che posso fare sono quei passi dove viene detto che i giusti erediteranno la terra, come ad esempio in Matteo 5, 5, o Salmi 37, 11, e nel versetto 29 viene anche detto l'abiteranno per sempre. Perché questi passi andrebbero presi alla lettera e decontestualizzati, mentre passi come 1 Pietro 3 e 18, 20, dove viene detto che Gesù scese nell'Hades per annunciare l'Evangelo ai morti per liberarli, o tutti quei passi dove si parla chiaramente di Genna di fuoco eterno, che comunemente chiamiamo inferno, come Matteo 8 e 11, 12, o Matteo 13 e 41, 42, o Marco 9 e 43, virgola, 4, 7, 4, 8, Matteo 25, 41 e Apocalisse 19 e 20. Oppure in Apocalisse 6, 9, 11 ci sono i martiri defunti che chiedono al Signore fino a quando dovranno attendere la resurrezione. Significa che in qualche modo erano vivi, in spirito. Nel passo in cui Gesù disse al Buon Ladrone oggi sarai come in Paradiso, che è stato ovviamente manipolato in modo ridicolo, per evitare che interpretandolo alla lettera crollasse l'insegnamento principale della società torre di guardia. O ancora, per quale motivo quando si dice che Gesù tornerà in modo visibile, come ad esempio in Atti 1 e 11, Matteo 24, 27. Apocalisse 1, 7, Luca 21 e 27, Matteo 24, 30, Marco 13, 2, Ebrei 9 e 28. Loro dicono che non va inteso alla lettera ma che è metaforico, cioè che solo i tdc vedrebbero il ritorno di Gesù. Oppure quando viene detto nella Bibbia che la terra e il cielo verranno distrutti, come Ebrei 1 e 11, 2 Pietro 3 e 10, 13. Apocalisse 20 e 11, Apocalisse 21 e 23, Isaia 13, 6, 11, Ebrei 12 e 25, 27, Isaia 24, 1, 3 e anche i versetti 19, 22. Invece per loro il Sacrosanto è inviolabile decontestualizzare i passi dove si parla del mangiare sangue, ma di questo se ne è già occupato su cari aree. Mentre loro possono tranquillamente decontestualizzare i passi che in apparenza negherebbero la natura divina di Gesù. Soprattutto quello in cui Gesù dice che il Padre è maggiore di lui, in Giovanni 14 e 28, oppure quei passi dove Gesù parla con il Padre, come Marco 15 e 34, quelli andrebbero intesi così come li leggiamo oppure spiegati a modo loro senza alcuna prova che quella sia la spiegazione giusta, e guai a fare domande altrimenti si incazzano. E ancora peggio se si prova con la Bibbia stessa a spiegare perché si sbagliano, ad esempio facendo leggere Filippese 2, 5, 11, dove dice chiaramente che Gesù è Dio, ma che si è abbassato a livello umano e si è sottomesso al Padre come un uomo comune. Non solo, dice anche che il suo è il nome al di sopra di ogni nome, superiore anche al nome divino, al quale i TDG sarebbero tanto legati, se non fosse che il nome Geova non esiste. Come potete vedere i TDG sulla questione dell'intendimento biblico nel suo contesto fanno due pesi e due la maggior parte delle cose che loro dicono sono basate su passi biblici decontestualizzati oppure interpretati a modo loro, le loro pubblicazioni, soprattutto quel libricino, che prima era dorato oggi e nero chiamato cosa insegna realmente la Bibbia o qualcosa del genere. È una collezione di passi biblici, spesso manipolati, decontestualizzati e spiegati a modo loro, ed io che sto cercando di capirne qualcosa resto sempre più confuso e ignorante. Per il momento è tutto, alla prossima!